Ehi, sta lontano le zanzare. Ehi, sta lontano, Mattia Polni, Franco Paoli e Uddicena, Fili di Sera. E noi ci aspettiamo perché oggi abbiamo anche le prese azioni sedice moda del campionato invernale, arrivata la decima edizione. Ehi, amore! Ehi, amore! E a chiuderemo, a chiuderemo la prova anche Gaia Paccini con Alba in un tempo di 1-30-06. 1-30-06!